Non riuscirete a uccidermi, maledetti! Non ce la farete mai, sono un imperatore! Vedi di morire! Vottene! Sono in fin di vita, ragazzi, sono messo malissimo! Dai! Muori! Probabilmente vi state chiedendo per quale motivo non sto dormendo! Ok, forse adesso ho un attimo di respiro. Non ci posso credere! Avevate ragione! Mi serve del cibo, mi serve del cibo. Allora, calmi tutti. Benvenuti, ragazzi, in un nuovissimo episodio della serie in cui daremo la caccia ad Aerobrine. E al momento in realtà lui sta dando la caccia a noi perché non sono equipaggiato abbastanza bene. Nello scorso episodio mi avete detto che ogni volta che appaiono queste lettere costruite con la Glowstone appaiono per creare la scritta Aerobrine. Infatti nel primo episodio è apparsa la H, nel secondo la E e adesso la R. Quindi la prossima lettera sarà la O. E probabilmente starete pensando ma Kendall non ti hai rifatto una mini casetta nello scorso episodio? Sì! Il problema è... Ah! No! No, 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 scheletro con occhi bianchi! Via! Dio! Mi date il tempo di iniziare questo video, per favore? Dicevo, il problema è che poi mi ha colpito un Silverfish. Sto a dormire. Ci sono mostri. Non sono dei mostri. E mi ha teletrasportato lontano da casa. Io adesso non so dove mi trovo. Non posso aprire le coordinate con il tasto F3 perché quando le apri in questa versione crashi. E quindi ho perso il mio letto! E non posso dormire. E c'è... No, 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 no. Ok, per fortuna ci sono delle pecore. Uccidendole mi posso rifare il letto. Beh, è stato sicuramente un inizio un pochettino burrascoso. No, 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 no. L'ho appena visto, l'ho appena visto, l'ho appena visto. C'è una barca. Via, io me ne vado. Arrivederci e grazie, ragazzi. E guardatelo. Oddio, ma è pieno! È pieno! Oddio! Oddio! Mi vuole proprio morto! È dappertutto! Raga, butta male. Butta male. Aspetta, qui c'è un villaggetto. Non è che... Forse mi ha portato soltanto dall'altro lato del lago. Fammi vedere se trovo la casa. Aspetta, aspetta, aspetta. Forse abbiamo fatto jackpot. Fabbro con tutta roba che già ho. Va bene, magari mi cambio questo. Prendo dell'altro ferro. Mi cambio l'armatura. Ok, adesso che ho finalmente un attimo di pace. Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video della serie di Aerobrine. Se vi siete persi gli scorsi episodi, sappiate che ci troviamo in un modpack fantastico in cui c'è Aerobrine. Ecco, come potete ben vedere. Quello è un soldato di Aerobrine. E sta cercando in tutti i modi di darci la caccia. Ma raga, sbaglio? O non prende knockback e sta letteralmente andando alla velocità della luce sull'acqua. In questo modpack più tempo passa e più Aerobrine corromperà tutto, rendendolo ancora più difficile da completare. E il mio obiettivo è quello di equipaggiarmi abbastanza bene per spawnare Aerobrine e ucciderlo. Adesso andiamo a dormire per piacere. Oi, calmi, 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 calmi. Non voglio problemi. Andatevene da qua per favore, questo diventa il mio letto adesso. Ah, molto meglio. Ok, adesso vorrei un attimino capire se riesco... Fermo, c'è del ferro, c'è del ferro che mi serve. Vorrei capire se riesco a ritrovare la mia casa perché mi ero fatto una casa sulla spiaggia. Ma poi i silverfish mi hanno teletrasportato. E come vi dicevo non posso vedere le coordinate perché in questa versione sono buggate. Quindi, calmi, allora, cornace, mettiamo il ferro a cucinare così mi faccio i pantaloni e almeno c'ho una corazza decente. Che vuoi tu? Non mi dire che sei anche tu un soldato di Aerobrine, ti prego, eh. Di giorno in realtà non dovrebbero apparire, no? A meno che li stuzzichi tu. Comunque è confermata la teoria che avevate voi nei commenti della Glowstone. Sta cercando di scrivere il nome Aerobrine con delle costruzioni di Glowstone. Abbiamo già visto la H, abbiamo visto la E e abbiamo visto la R. Non mi meraviglierei se in questo episodio vedessimo anche la O. Niente, ragazzi, ho perso la casa per sempre. Cioè, non ho la più pallida idea di dove possa essere. Lì ci sono i ghiacciai, che è più o meno da dove sono venuto io. Quindi sarà dalla direzione opposta. Maledizione, guarda. Oggi devo assolutamente farmi coraggio di andare in caverna per prendere dei diamanti. Sta passando troppo tempo, non va assolutamente bene. Più tempo faccio passare e più Aerobrine diventerà forte, quindi mi devo dare una mossa. Allora, direi che come strategia salire qua sopra non sarebbe male. Così almeno c'ho una visione panoramica dell'isola. Sto maiale è un po' strano qua, eh. Cioè, il fatto che sia solo, vuoi vedere che se l'ammazzo diventa come Aerobrine? Ok, no, per fortuna. Prendiamo un po' di questa legna, che così mi posso rifare il letto. Ehi, calme api, calme. Ok, come vi dicevo ho bisogno di rifarmi il letto, visto che il mio l'ho perso. E adesso dobbiamo andare in miniera. Sì, sì, sì. Non ci sono più scuse. Forse prima però metterei a cucinare un po' di cibo, va. Dividiamo questo carbone, così cuociamo tutto quanto insieme. Molto bene. Mi raccomando ragazzi, come vi dico in ogni episodio, state bene attenti e guardate attentamente il video, perché potrebbero succedere delle anomalie e delle cose strane attorno a me di cui io magari non mi accorgo. Infatti a ogni episodio mi state segnalando sempre tante, tante cose. Io cercherò sempre il più possibile di guardarmi attorno, però al momento mi sembra tutto ok. Ma non fidatevi troppo dei miei occhi. Allora, il cibo l'abbiamo. Iniziamo a svuotare un po' l'inventario da tutto ciò che è spazzatura. Questo diciamo che non ci serve a nulla. Anche questo. Via le porte. Via l'ossidiana. Questo trasformiamolo in bomb meal, potrebbe servire in futuro. Questo non mi serve a niente, questo non mi serve a niente. Ok. Questi qua li ripariamo. Direi che così può andare più che bene. Adesso andiamo alla ricerca di una miniera. Questo blocco però io me lo voglio prendere. Spostati signora pecora per favore. Grazie. Che delirio ragazzi. A un certo punto ho visto tre aerobrain che mi inseguivano. Ma secondo me soltanto uno di quelli era quello vero. Gli altri probabilmente erano lì soltanto per spaventarmi. Eh lì forse ci potrebbe essere una caverna interessante. Andiamo. Mi servono diamanti. Devo assolutamente farmi diamanti. Ricordate ragazzi che probabilmente per battere aerobrain boss avrò bisogno di un full setting nederite. Oh no. Le caverne di dripstone non fanno proprio per me in realtà eh. Non è che mi piacciono più di tanto. Aspetta. Lo scudo lo mettiamo qua. Oh wow. Oh porca miseria che paura. Allora fermi. Mi servo un altro po' di ferro per rifarmi il piccone nel momento in cui si romperà. Però non ne sto trovando. Che faccio? Scendo con l'acqua? Ragazzi. Mette i brividi eh. Mette i brividi. Ok l'acqua c'è. Scendi pian pianino. Guardate il magma e la lava. Ma scusa non dovrei vedere meglio i diamanti con queste shaders? No. No 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 no. Oh sì. Proviamo a ucciderlo? Fatti sotto cocco dè. Fatti sotto cocco dè. Non ho paura di te e neanche del tuo padrone. Vabbè per fortuna avevo lo scudo se no mi massacrava. Oh ferro meraviglioso. Questo ci servirà per quando poi il piccone si starà per rompere. Prendiamone dell'altro. Da notare che senza avere la torcia in mano diventa tutto quanto grigio. Impressionante. Ok questo ferro dovrebbe essere più che sufficiente. Adesso concentriamoci solo sui diamanti. Mi piacerebbe vedere a che coordinate mi trovo. Ma ovviamente non posso. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ok. Maledizione. No ragazzi non ci posso credere. Ma sono caduto come un nabbo. Aspetta però. Aspetta perché per fortuna qui ho lasciato delle cose vero? Sì. Bene è già qualcosa. Posso andare a recuperare tutto più o meno. Solo che si sta per fare notte. Non ci posso credere ragazzi. Ma sono caduto come un cretino. Ho fatto un salto troppo lungo. Oh mio dio. No 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 ragazzi. No 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 no. No no no. Ti prego non ho l'armatura. Non ho nulla. Devo andare a dormire. Devo andare subito a dormire. Devo subito a dormire. Devo subito a dormire. Ah. Ah. No. No 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 no. No 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 no. Com'è possibile? Com'è possibile? Com'è possibile? Ah. No raga. Ho i brividi fermi. Per piacere eh. Per piacere. È lì. È lì che mi fissa. È lì che mi fissa. Devo far finta di nulla. Io. È come se non lo stessi vedendo. Devo far finta di nulla. Dammi sta torcia. Via 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 via. Non guardiamolo. Più lo guardi più si arrabbia. Più lo guardi più si arrabbia. Ancora lì. Sì ancora lì. Ce ne sono due. Ora uno. Mamma mia. Che ansia. No 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 no. Stanno diventando sempre più forti i mostri ragazzi. Ci sono sempre più mostri posseduti. Mi prego. Non adesso. Non proprio ora che non ho nulla. Io ho paura di andare a dormire di nuovo raga. Oh bra... Raga. Che succede se lo guardo? Oh! Ehi. Ehi. Si è svegliato pure il villager. Mi ha... Mi ha attaccato. Avete visto che mi ha attaccato. Sta provando a uccidermi. Sta provando a uccidermi in tutti i modi. Porca miseria. Non ci voleva morire in caverna ragazzi. Non ci voleva proprio. Ma non vi preoccupate. Mi rifaccio tutto. Mi rifaccio tutto. Sì sì sì. State tranquilli. La cosa importante è che ho abbastanza cibo. E qua ce n'è cibo. Ce n'è da vendere. Mamma mia. Comunque sono morto per l'ansia eh. Cioè io ve lo dico. Sto giocando veramente con l'ansia. Mi trevano le mani. Faccio errori. Un errore dopo l'altro. Non è facile giocare sapendo che ti stanno guardando. Ti sta osservando una creatura che vuole ucciderti. Ok. Allora. Ha provato a uccidermi. Più volte. Noi non gliela daremo vinta. Faccio 64 di pane. Top. Con questo legno mi rifaccio gli utensili. No raga io non ci vado a dormire. Ho paura. L'avete visto? Mi è proprio apparso davanti al letto. Non ci torno. Facciamo così. Ok. Dai tutto sommato non ho perso molto. Tranquilli. L'armatura si rifà subito. Faccio immediatamente il piccone. E tutto il resto viene dopo. Pegliamoci tutta sta roba. Grazie. Grazie. E grazie. Ok. 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 Va tutto bene ragazzi. Va tutto bene. Vediamo se riesco a ritrovare quella caverna. Quella dove sono morto. Beh se non altro adesso non c'è minimamente traccia di aerobrain. Un po' strano. Prima ce n'erano 3 o 4. Adesso neanche mezzo. Allora sono andato sopra questa montagna. Sì. Bene bene. Dovrei riuscire a trovare la mia roba. Sperando che aerobrain non mi ammazzi prima però. Corri corri più veloce del vento. Eccolo. 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 È uno zombie però. Ok. Non è aerobrain. Ah. Quindi forse anche prima mi sono confuso. Era uno zombie e sembrava aerobrain. Allora la caverna l'ho ritrovata. C'è soltanto un problema. Io da qui ci sono sceso con l'acqua. E poi sarà pieno di mostri. Qui mi ammazzano sicuramente. Devo trovare del ferro. Mi devo fare almeno almeno uno scudo. Per forza. Ok vediamo se troviamo del ferro qui. Qui attorno. No. Quello è carbone. Quello è un cavallo. O qui. Maledizione a suo stupido rame. Qui si può. È permesso? Ferro. Top. Dammene 4 che mi faccio scudo e secchio. Dai. Sì. 3. E si gode. 4. Allora. Che uso per cucinare un po' di questo? Ah c'era il carbone proprio qua davanti. Maledizione. La mia roba non dovrebbe essere despownata. Perché comunque sono passati. Eh oddio. Forse 5 minuti sono già passati. Sì. Mi sa che c'è il rischio che non trovo più nulla. Sai. Vabbè vediamo dai. Tanto là sotto ci devo andare lo stesso. Faccio un po' di torce. Ok. Ora. Scudo. Come prima cosa fondamentale. E secchio d'acqua. Mucho bien. Speriamo di avere un po' di fortuna ragazzi. Qui c'è dell'acqua vero? Sì. Mi ricordavo bene. Allora. L'obiettivo è riprendere tutte quante le mie cose. E trovare anche i diamanti. Se ci muoio di nuovo disinstallo Minecraft. No sto scherzando. Tanto non ci muoio di nuovo. Eh ora però non mi ricordo da che lato era andato. Questo potrebbe essere un problemino. Allora. Attenzione perché qui è pieno di mostri. Ecco. Vedi che già mi stanno attaccando. Fermi. Maledetti. Lo so che è pieno di ferro da quella parte ragazzi. Ma non mi posso fermare al momento. Mamma mia. È pieno di ferro ovunque. Dov'è che sono andato? Ero qua? Dimmi che ero qua? Sì. Dimmi se di sì. Sì. C'è tutta la mia roba. Ok. Mi devo buttare. E raccoglierla. Vai scendi. Diamo un'occhiata in giro. C'è uno zombie. Sembrerebbe soltanto. Mettiamo torce. Ottimo. Ho recuperato tutto. Bene. Adesso devo stare molto più attento. Non voglio fare un errore stupido come quello di nuovo. Che è successo? Oddio. Allora. Armatura. Buttiamo tutto ciò che non mi serve. Piccone mi serve. Cibo ne ho a sufficienza. Scendiamo giù. Pantaloni. Grazie. Non vedo però i piedini. Eh no. Mi sa che quelli li ho persi. Vabbè poco male. Il 90% della roba però l'ho recuperata. Me li rifaccio i piedini. Easy. Buttiamo tutto ciò che è spazzatura. Così almeno c'ho più spazio. Allora. Mi posso fare innanzitutto un nuovo piccone. Mi raccomando. Sempre allerta. Faccio subito i piedini. Ok. E adesso si va a cercare i diamanti. Abbiamo perso un po' di tempo. Ma l'importante è che alla fine siamo riusciti a recuperare tutto. Allora. Stavo dicendo. Io non posso vedere con l'f3 a che coordinate mi trovo. Però giudicare da quanta dip slate c'ho attorno. Siamo sicuramente all'altezza giusta per trovare i diamanti. Adesso dobbiamo solo avere un po' di fortuna. Guarda quanto scende ancora. Ho trovato. E si gode. Ti prego non dirmi che è solo uno. Due. Benissimo. Benissimo. Dai facciamo tre magari. No. Due. Vanno bene. Vanno bene anche due. Che ci faccio con due diamanti? Una spada ci posso fare. Oh. Ci potrei fare un enchanting table. Facciamo la spada per ora dai. Ricordatevi che devo proteggermi in questo mondo. Ok. Qui ci stiamo addentrando. Ehi. Sento dei suoni strani. Qui ci stiamo addentrando ancora oltre. Muori. Con la mia spada in diamante adesso non ho paura di niente e di nessuno. Qui inizia la man'shaft. Ma allora sta caverna è molto più profonda. Aiuto sono diventato sordo. Questa caverna potrebbe contenere molti più diamanti. Eccone un altro. Dammi che mi faccio tutta la corazza. Ti prego. Niente. Ok. Devo fare molta più attenzione perché quando ce li ho così vicini se dopo essere morti si trasformano in aerobrain per me poi è la fine. Ecco un altro diamante. Quanto amo le nuove caverne della 1.20. Se ne trovo uno ogni volta eh. però almeno ce ne sono tanti. Sento ragni velenosi. Ho paura che siano impossessati. Altro diamante. Vai. Vai. Due. Sì. Bello mi fa ridere che sono pieno di diamanti di già e non ho ancora neanche una casa. Stavo per ricadere. Allora qua che ci abbiamo? Torce. Che ci faccio con quattro diamanti? Quattro soltanto? Ma dai. Ci faccio niente. Che ci faccio? Perché ho buttato l'ossidiana? Avrei potuto farmi l'enchant in table. Poco importa. Non piangiamo sul latte versato. O meglio sull'ossidiana gettata. Diamante. Dammelo qua. Dai più di uno ti prego. No dai. Basta. Ma seriamente. E va bene. Dobbiamo andare avanti a uno a uno evidentemente. Sta mineshaft è decisamente molto più tenebrosa con queste shaders e con questa specie di nebbia. Però mi sto divertendo un mondo. Non mi divertivo così tanto da tanto tempo. Ok allora. Calmi tutti. Quindi qua c'è lava e acqua. Qui potrebbero esserci degli altri bei diamanti nascosti incastonati nella pietra. No. Forse da questa parte. Diventa sempre più stretto. No. Proviamo a percorrere sto tunnel. Qua ci siamo già stato. Da questa parte invece. Sento molti mostri. Per il momento li eviterei. Ma quelli sono diamanti? Sì! Vieni qua da me. Ah tra l'altro è vero. Sott'acqua mi avete detto che se ne trovano di più. Vediamo un po' se ne troviamo degli altri. Ok. Qua sembrerebbe di no. Vediamo in quest'altra piscinetta. No. Dai da bravi. Non devo farli avvicinare così tanto. Ok. Cavolo qua ci sono i ragni velenosi. Non va bene. Cambiamo zona. Ok. Qua sarà pieno di diamanti. Pieno è un parolone però uno l'abbiamo trovato. Sì ma dai ragazzi non si può andare avanti ad uno ad uno. L'acqua diventa sempre più difficile muoversi. Ma torniamo indietro va. Quanto odio le caverne di dripstone. Veramente c'è un altro cartello. Aspetta mi guardo attorno che non voglio sorprese. C'è scritto vattene adesso. Ok. Forse mi conviene ascoltare il consiglio e andarmene. Non voglio altri problemi. Sono già morto. Grazie. Me ne vado? Me ne vado. Non mi attaccate me ne sto andando. Giuro. Allora. Dai tanto ho preso un bel bottino. Lì c'è uno scheletro mi potrebbe uccidere. Facciamo così. Facciamo un ponte così non mi può vedere. No. No 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 no. Non so se avete visto ragazzi ma c'è aerobrain. Dov'è? Era lì. Se si teletrasporta qui adesso da me mi fa cadere muoio. Raga non sono pazzo. C'era aerobrain proprio lì. Mi butto e me ne vado. No no no. Mi butto e me ne vado. Mannaggia. Occhi bianchi. Occhi bianchi. Occhi bianchi. Devo andarmene. Devo andarmene. Devo andarmene. Devo andarmene. Mi sa che quello era un avvertimento. Ok. Però eh. Però oggi ti ascolto. Me ne vado. Promesso. Me ne sto andando tranquillo. Ok saliamo. Raga. Raga. È lì che mi guarda. Non so se è riuscito a vedere. Ah ah. Oh. Non devo fissarlo. Non devo fissarlo. Non vedo nulla. Ok. Lì c'è uno zombie. Ecco perché voleva che me ne andassi. Tutto chiaro. Non ti preoccupare. Me ne vado. Ok. Allora. Siamo riusciti a scamparla. Solo che io adesso non ho la più pallida idea di dove mi trovo. Eh ragazzi. È difficile giocare senza le coordinate. Senza poter aprire F3. E senza avere una casa soprattutto. Vediamo se riesco a ritrovare il villaggio. Però mi sembra che sono proprio dalla parte opposta. Ma sai che c'è? Io quasi quasi sfrutto sti diamanti per farmi un corpetto. Dai. Meglio di niente no? Corpetto e spada in diamante. È già qualcosa. Ok. Ehm. Ragazzi. Non ho nulla per farmi un letto. E soprattutto. Non ho la più pallida idea di dove si trovi casa mia. Tu sei inquietante. Ok. Meno male. Quindi io quasi quasi chiuderei. Ed è... Ah! L'avete visto. L'avete visto tutti. È appena spuntata di fronte a me. Ed è una O. Avevate ragione. Sta formando la scritta Herobrine. Negli scorsi episodi ha fatto già la H e la E. E in questo ha fatto la R e la O. E' chiaro quello che sta facendo. Messaggio recepito. Devo trovare una zona sicura. Devo trovare una zona sicura. Non esistono zone sicure. No. Non esistono zone sicure. Non esistono zone sicure. Allora. Intanto mi chiudo qua dentro ragazzi. Così. Schippiamo la notte. Bene. Per la terza notte di fila. Ci troviamo dentro un buco. A nasconderci da Herobrine. Porca miseria. Sta sfida è molto più difficile di quel che pensassi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato. Mi raccomando. Lasciate un mi piace. Dal vostro Kendall è tutto. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao. 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 Ciao.